Abbiamo sentito la necessità di fare una conferenza stampa per un attimino fare il punto della situazione a seguito di questi aumenti continui che sta subendo la cittadinanza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'aumento della Tarsu fatto il giorno dopo degli aumenti IMU e IRPEF in Consiglio Comunale, quindi il 30 ottobre e il 31 ottobre. Perché ha fatto traboccare il vaso? Perché a mio giudizio si poteva e si doveva avvisare il Consiglio Comunale di questa idea. Non si può giustificare la crisi dell'ente con tutti questi aumenti e soprattutto sulla delibera della Tarsu stiamo verificando se effettivamente possiamo cambiare o far ritirare questa delibera perché riteniamo che le aliquote sono di competenza del Consiglio Comunale così come prevedono diverse sentenze della Cassazione e poi nella delibera sono presenti diversi vizi che già stiamo affrontando insieme ai nostri legali. Sostanzialmente riteniamo che il commissario ha ben operato dal suo insediamento però questa deriva di mettere tasse in continuo in un momento di difficoltà per la città non la condividiamo, non condividiamo questa mancanza di condivisione con il Consiglio Comunale con la città su questi argomenti fondamentali, chi ama la città ama i cittadini, se l'unica strada disponibile è quella del dissesto finanziario bisogna avere il coraggio di affrontarlo perché ormai tutti gli effetti negativi che produce il dissesto sono già stati fatti a seguito di questi aumenti. Riteniamo che ci vuole coraggio e per immaginare una città che rinasce tra 10-15 anni, se l'unica strada è quella del dissesto invitiamo il commissario a non aver paura, ad avere coraggio e ad andare avanti su queste strada per ridare il futuro ai nostri figli.